come sei stato? mi buttava fuori, io li segava e mi buttava fuori ai paesi e camminando e camminando con un tasso vuoto e andavo è tutto così, cammini e te va sotto camminando e te va sotto quante volte che ti dai gioco una con l'altra te restai su quei corsi fai fuori un'intera, un roba e due se fai uco ti buttai fuori ai paesi e che vi ero poco fredda che l'acqua poteva ai drento forse, ti ingiava i gambe perchè quelli sono tutti sorgenti questi hanno formato sorgenti hanno tutta a terra e mi ricordo se io ho camminato si che fai ucchimato o un canto e li ho buttati via quando ormai eri nuovi in manca li ho buttati via quante barche avevi? no, no, no mi sono una giornata avevo portato arriva mi dico do carri quasi di verde e venia un bel carro di seque ero di seque ma camminare sempre così mi sono fondata una volta come l'avevo fatto? mi sono saltato su arriva e ho tirato acqua forca e ho tornato a scaricare e dopo mi ho buttato fuori l'acqua e tornare a scaricare una volta non restava un palmo no? da seque andava in età fino a... dappertutto insomma quell'era il mese di agosto invesiva gran parte la calcia e bisognava aver tagliato perchè? li buttava dentro i cani i cassadori ossia li pestava gli era il doppio fatica da luglio uno che andasse fuori da... dopo il... tagliare frumento? si appena finìo tagliare si andava dentro per andare dietro a tagliare per portarla fuori insomma era il tagliare a stagione che seccava allora e in modo che quando divergeva la caccia? divergeva la caccia gran parte gli anni divergeva sempre il 4 agosto perchè mi ricordo perchè compia gli anni e mi ricordo ben il mese dell'ul... a fine dell'ulio agosto mi pareva il mare perchè era un netto perchè... io non ti aveva mai visto un netto ah che bello le righe di acqua i canaetti che correva agli era un spettacolo e poi erano i dati e dopo si era stropato tutto prima che erano i canali i soccorsi di acqua e tutto adesso è tutto e anche il corrente e basta adesso è tutto coerto e anche la parte si è anche a bonificare anche a bonificare ah ma era bello che era a segare quindi era lento e era un spettacolo sì bene bene grazie 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 grazie